Il D2 a livello diocesano sarà nel 2019 a Panama. Il D2 a livello diocesano sarà nel 2019 a Panama. Il D2 a livello diocesano sarà nel 2019 a Panama. Il D2 a livello diocesano sarà nel 2019 a Panama. Il D2 a livello diocesano sarà nel 2019 a Panama. Il D2 a livello diocesano sarà nel 2019 a Panama. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.